Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti Tappeteriz 363x274. Questi tappeti sono realizzati nella Persia nord-occidentale, sono spesso di grandi dimensioni e molto resistenti, quindi perfetti in un ingresso o in un ambiente pubblico. La lana è tagliata da corta a media. Questo tappeto è considerato tra i migliori dei tappeti semplici prodotti in tutta la Persia. Lavorazione, hanno dato a mano. Spessore circa 9 mm. Pelo, lana, ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.